Speriamo che andiamo sempre avanti bene così, come siamo fatti fino adesso. Io con l'autorizzazione per ringraziarla da parte mia, di tutti i motoclep 20 e glorie, e lui è il nostro paraggi, è il segretario del motoclep, che non ci manca mai, che c'è stata sempre l'appoggia, tanto molto morale. Perciò ringrazio tutti qua, da parte mia, di tutti i motoclep, di tutti i modi ciclisti per anticiparla, una favolosa aperitiva e preparazione, e la rispettabilità che ci ha dato fino adesso, e spegnate quel continuo regolo di questo passo. Adesso fra poco, con calma, veniamo per tutti, una nuova affollata, poi facciamo una foto di gruppo, che va messo su internet, dopo il nostro agio, che ci lo metto sul sito, facciamo una foto oppure al proprietario, oppure alla signora, poi rimandiamo piano piano.